Saranno esposti i progetti, le tavole, i modellini dei giganti di cartapesta, ma anche i manifesti storici del Carnevale di Fano. Si chiama Carnevale e Arte, Luci, Allegorie e Finzioni, ed è la mostra che vuole celebrare l'arte carnascialesca italiana e che verrà allestita nel castello del piccolo borgo medievale di Candelara, conosciuto come il Paese delle Candele e dove ogni anno si recano migliaia di visitatori. In occasione dell'imminente manifestazione invernale più importante della regione Marche, nonché simbolo della città della fortuna, da domenica 25 gennaio al 22 febbraio prossimo, si potranno ammirare anche le opere che hanno caratterizzato nel tempo il Carnevale più antico d'Italia e in alcuni punti del castello verranno esposti elementi decorativi in cartapesta, smontati dai carri delle precedenti edizioni. Quest'anno con l'ente carnevalesca abbiamo voluto allestire una mostra che raccontasse non solo il Carnevale di Fano ma anche vedere come nel campo dell'arte gli artisti italiani hanno interpretato il Carnevale e le maschere. Abbiamo nove artisti provenienti da tutta Italia, alcuni affermati a livello internazionale, i quali Mario Loglio, Luigi Rincicotti, Alberto Lanteri, poi non potevano mancare naturalmente i fanesi, il Polo del Signore e Pierluigi Piccinetti, artisti del Lazio, artisti di Viareggio per raccontare questo mondo fantastico. La mostra ad ingresso libero rimarrà aperta il sabato e la domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 ma l'inaugurazione ufficiale si terrà domenica prossima alle 17.30 durante l'evento Candelare in Festa, un'iniziativa nata dal gemellaggio tra l'associazione turistica Proloco e l'ente carnevalesca e che rappresenta un'anticipazione delle tre sfilate che avranno luogo a Fano l'1, l'8 e il 15 febbraio. Per l'occasione interverrà anche il professor Alberto Berardi, uno dei massimi studiosi degli aspetti culturali e artistici di una delle feste più amate dalla popolazione. Dunque nel piccolo centro collinare sarà ospitata la prima festa di carnevale della provincia. L'appuntamento per grandi e piccini sarà nel borgo di Santa Lucia a partire dagli ore 15 con l'animazione della musica Arabita di Fano, banda ufficiale, e dalla banda e gruppo folcloristico di Candelara. Insomma, uno dei tanti appuntamenti da non perdere, capace di far rivivere la storia, l'arte e la cultura della Kermes.